È stato un viaggio che sicuramente non dimenticherà fra spari, preoccupazione e sogno realizzato, ma alla fine la liceale di Sulmona, che giorno dell'attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo era lì a cena in un ristorante, ha ritirato il premio che si era conquistato con sudore assieme ad altri abruzzesi che si apprestano al ritorno in Italia. Ma quello che doveva essere un viaggio premio si è trasformato in un soggiorno macchiato da urla, sangue, colpi di pistola, momenti di fibrillazione, per loro e per lei soprattutto tutto il filato liscio sin dal primo istante, un fuori programma che si può raccontare. Ieri la cerimonia in programma a Parlamento si è svolta senza intoppi in assoluta regolarità. Così la 17enne, che frequenta il quarto anno del liceo colinguistico di Sulmona, ha ritirato l'attestato. Si tratta del primo premio per il concorso internazionale 2018 indetto dal Movimento per la vita italiano. A Strasburgo tutto era cominciato alle ore 20 dell'11 dicembre 2018. Il mercatino al centro di Strasburgo era pieno di gente, luci, colori. Tra la folla irrompe un 29enne di origine magrebina e inizia a far fuoco, uccidendo tre persone, ferendone altre 16, tra cui in gravi condizioni, anche un italiano. La giovane di Sulmona fortunatamente si trovava all'interno di un ristorante quando all'improvvisamente si spengono le luci. Arriva prima l'ordine tassativo di non muoversi, poi la serie di telefonati da Sulmona. A mettersi in contatto con la sulmonese è stata la professoressa Emanuela Cosentino, che era assicurato tutti a un DTG, visto che la situazione è apparsa subito sotto controllo. I ragazzi sono stati raccompagnati in hotel intorno alla mezzanotte. Ieri è stata la volta della cerimonia per la consegna dell'attestato premio.